In staffetta, la fa spesso, ma in i 400 normali come si piazzerebbe nel mondo? Diciamo che dopo l'infortunio ho fatto un 45-08 importante che mi piazzava in una grande lista di nomi. Purtroppo non ho avuto la possibilità di farlo quest'anno, ma spero dell'anno prossimo di poter far vedere le mie abilità anche sui 400. Vorrei abbattere un muro importante, ma in questo momento voglio gareggiare, stare bene e essere continuo. Ma quindi cerca di andare alle grandi manifestazioni bissando le due prove? Sarebbe difficile, non ho ancora la tenuta per farlo, però fuori competizione o per prepararla, perché io sono uno che dice che per fare bene i 400 stacoli bisogna avere una base importante, quindi la base è quella dei 400 piani, vorrei fare un 400 piano che mi porti a migliorare il mio personaggio. A chi si ispira? A chi somiglia? A me Fabrizio muore il mio idolo, da sempre.